coronavirus da lunedì l'italia riapre in giallo 13 regioni più le due province autonome in arancione gran parte del sud rossa la sardegna il garante per la privacy scrive al governo sul pass vaccinale perché viola dati privati sulla salute 5 milioni di italiani già vaccinati hanno ricevuto anche la seconda dose richiamo del generale figliuolo alle regioni prima vaccinate i fragili dice perché rischiano di più addio a milva si spegna 81 anni la rossa della canzone italiana nel 2010 il ritiro dalle scene per problemi di salute legati alla memoria sono rimasta mezza persona disse di sé una carriera da record con 173 album e buongiorno bentrovati al tg 2000 in apertura l'italia che da lunedì passa in zona gialla restano arancioni sicilia calabria basilicata puglia e valdaosta e rossa la sardegna per la terza settimana consecutiva ma a far discutere adesso il destino del pass vaccinale il garante della privacy richiama il governo sul rispetto dei dati individuali per salute e libertà di spostamento barbara masulli il covid non è sconfitto ma la situazione epidemiologica in italia migliora l'indice di contagio è sceso a 0.81 ancora alto però il tasso di occupazione delle terapie intensive intorno al 35 per cento quindi sopra la soglia critica sul fronte contagi gli ultimi dati parlano di circa 14.700 nuovi casi con un tasso di positività che si alza lievemente al 4.7 per cento si incominciano a vedere gli effetti benefici delle vaccinazioni infatti la campagna vaccinale ormai accelerato il suo ritmo e questo giustifica anche la possibilità di riaperture milioni di italiani infatti da lunedì rivedono la zona gialla sono contento insomma finalmente siamo un po più liberi anche se insomma una scherina non la faccio a mettere se no i ristoranti rialzano le saracinesche a pranzo e a cena ma solo all'aperto e finalmente fra regioni gialle ci si può spostare liberamente rimangono comunque molte restrizioni e divieti anche in zona gialla come il coprifuoco alle 22 e la chiusura dei centri commerciali nel weekend entrambi i motivi di scontro politico lo stivale però non sarà tutto giallo cinque regioni restano arancioni basilicata sicilia calabria puglia e vale d'aosta rossa invece la sardegna inoltre in zona arancione o rossa per viaggiare serve la certificazione verde che attesti l'avvenuta vaccinazione l'avvenuta guarigione non oltre sei mesi prima o il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti ma sulla questione certificazione arriva la frenata del garante della privacy secondo cui il pass vaccinale presenta delle criticità capitolo vaccini sono 5 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose su astrazeneca nuovo pronunciamento dell'agenzia europea secondo cui è efficace i benefici aumentano con l'età per il generale figliuolo bisogna però mettere in sicurezza i fragili che potrebbero avere conseguenze disastrose allora i servizi di beatrice bossi e luciano piscaglia vediamo mai uno stato di emergenza anche a livello nazionale dal dopoguerra in poi è stato affrontato con tutte le regioni tutti i comuni tutti i cittadini contemporaneamente interessati dall'emergenza un paese unito che combatte insieme l'epidemia il capo della protezione civile incoraggia i singoli territori a dare il massimo e i risultati a livello nazionale cominciano a vedersi ieri è stata sfondata quota 5 milioni di immunizzati con doppia dose una metropoli come roma insomma è protetta dal virus e non rischia più la morte un anziano su due sta già più tranquillo secondo il report settimanale pubblicato questa mattina che parla del 53 per cento degli over 80 coperto da entrambe le dosi l'agenzia europea del farmaco ha confermato la fiducia ad astrazeneca i benefici superano i rischi hanno ripetuto ancora ieri e gli effetti collaterali gravi sono molto rari i ritardi nelle forniture della casa farmaceutica inglese hanno però messo in difficoltà tutta europa che infatti ieri ha deciso di procedere per le vie legali nonostante tutto però l'italia procede spedita nei prossimi 15 giorni arriveranno 5 milioni di vaccini ha detto il commissario all'emergenza confermando l'obiettivo di 500 mila iniezioni al giorno entro fine aprile la priorità resta quella di proteggere più fragili la campagna di vaccinazione di massa in lombardia procede con l'apertura delle prenotazioni da oggi anche per chi ha compiuto 60 anni incontra ancora qualche difficoltà però la somministrazione a domicilio dei vaccini alle persone fragili e agli ultraottantenni non deambulanti sono difficoltà in gran parte legate a problemi di prenotazione ma anche alla disponibilità e al trattamento dei vaccini da parte dei medici dobbiamo prendere i vaccini pfizer che ha sei dosi quindi e ogni vaccino ci impieghiamo circa 20 minuti mezz'ora perché dobbiamo stare un quarto d'ora a casa del paziente compilare la scheda fare tutte le procedure per cui sono vaccinazioni lunghe anche molti medici di famiglia infatti sono impegnati nella somministrazione a domicilio dei vaccini insieme ai loro colleghi delle aziende sanitarie territoriali e delle unità mobili di continuità assistenziale ho predisposto una borsa frigorifera con dentro il pallone di ambu con dentro tutti i farmaci per l'urgenza con dentro i vaccini sono dovuta andare al centro vaccinale a recuperare le fiale già precostituite e ho fatto il giro il giro deve essere fatto entro sei ore perché altrimenti il vaccino scade per cui se c'è qualche intoppo diventa poi molto difficile consumare tutte le dosi in diverse zone della regione però come ad esempio in gran parte della città di milano i medici di famiglia che si sono resi disponibili per le vaccinazioni a domicilio attendono ancora di essere coinvolti il piano rilancio per l'italia atteso nel consiglio dei ministri in cui il documento approda 221 miliardi e mezzo per far ripartire il paese stop a quota 100 e grandi riforme in arrivo addio all'esame professionale le lauree diventano abilitanti seguiamo federico plotti slitta ancora il consiglio dei ministri per il primo via libera recovery plan il piano nazionale di riprese resilienza da oltre 220 miliardi che la settimana prossima dovrebbe sbarcare in parlamento prima dell'approvazione definitiva e dell'invio a bruxelles non oltre il 30 aprile la fetta più grande 191 di questi arriverà dal recovery fund denaro a prestito e a fondo perduto stanziato dall'europa per arginare l'impatto devastante della pandemia di coronavirus e rilanciare l'economia del nostro paese il resto circa 30 miliardi di euro arriverà invece dal fondo complementare alimentato con lo scostamento di bilancio sei le missioni rivoluzione verde transizione ecologica a cui saranno destinati 57 miliardi digitalizzazione innovazione competitività e cultura 42 miliardi istruzione ricerca 31 miliardi infrastrutture mobilità sostenibile 25 miliardi inclusione e coesione con un occhio particolare alle donne ai giovani ai territori come chiesto anche dalla caritas 19 miliardi e ovviamente la salute a cui saranno destinati oltre 15 miliardi di euro il piano prevede anche un ambizioso progetto di riforme due strutturali quelle della giustizia della pubblica amministrazione e poi concorrenze e semplificazioni ma anche la riforma del fisco e la modernizzazione del lavoro novità anche per gli esami di stato che non ci saranno più basterà la laurea e quota 100 per le pensioni il governo avrebbe intenzione di abolirla per introdurre dal 2020 nuove misure mirate in particolare ai lavori più usuranti la pandemia nel resto del mondo sfiora le proporzioni di una catastrofe la situazione in india in tre giorni un milione di contagiati 6 mila i morti ospedali rimasti senza ossigeno oltre ogni dignità umana i cadaveri bruciati per strada mauretto dischino l'india per il terzo giorno consecutivo ha superato la soglia dei 300 mila contagi quotidiani da coronavirus oggi 346 mila 786 nuovi casi e 2644 morti dopo gli stati uniti il gigante asiatico è il secondo paese al mondo più colpito dal coronavirus 16 milioni 600 mila i contagi 189 mila i morti ma osservando la crisi sanitaria che sta attraversando l'india esperti locali sostengono che i dati reali siano superiori a quelli ufficiali negli ospedali tra l'altro scarseggia l'ossigeno per i pazienti covid abbiamo appena ricevuto 500 litri di ossigeno forse dureranno 30 45 minuti ma il fabbisogno giornaliero è di 8 mila litri non sappiamo cosa faremo dopo che la mezz'ora sarà finita denunciato il dottor gupta manager del batra hospital di nuova delhi nello stato dell'uttar pradesh ai fornitori è stato ordinato di non dare più ossigeno a privati c'è un'enorme scarsità di ossigeno siamo stati incaricati dall'amministrazione di darlo solo agli ospedali di balrampur e lok bandua confermato prakash chand tiwari dirigente di un impianto gli ospedali fanno anche fatica a gestire i decessi quando le famiglie non accettano i corpi dei pazienti covid gli ospedali ce li consegnano chiediamo la religione ed eseguiamo il funerale secondo le loro usanze ha riferito javed khan volontario dell'organizzazione un mat e pensare che l'india è uno dei principali produttori mondiali di vaccini ma solo l'1,5 per cento di 1,4 miliardi di abitanti ha ricevuto una dose torniamo sulla morte di 130 migranti nel mediterraneo l'organizzazione internazionale per le migrazioni agenzia collegata l'onu accusa l'europa per non averli salvati duro editoriale su avvenire stamattina del cardinale bassetti che scrive mi preoccupa il giudizio di dio su noi tutti che assistiamo in ermi pierluigi vito quando siamo arrivati ci siamo trovati a navigare in mezzo ai cadaveri così dall'ONG ss mediterranea descrivono il momento in cui con la loro nave hanno raggiunto i resti di un gommone partito dalla libia nei giorni scorsi nel cui naufragio sono morte almeno 130 persone e che fossero in pericolo a causa del mare mosso lo sapevano tutti da due giorni l'europa la libia malta e anche l'italia l'sos è lanciato da alarm phone la ricognizione di un velivolo dell'agenzia way frontex la ricerca di tre mercantili che incrociavano quel braccio di mare tutto vano anche perché nessuno dei paesi interessati compreso il nostro si è preso la briga di coordinare le operazioni di salvataggio e per questo il salvataggio non c'è stato una tragedia che ha attirato i commenti sdegnati di realtà civili ed ecclesiali impegnate nell'accoglienza l'agenzia onu per le migrazioni chiede che venga potenziato il sistema di ricerca e soccorso nel mediterraneo e ricorda come nel canale di sicilia in questi primi mesi del 2021 siano circa 500 i morti accertati il triplo dello scorso anno nello stesso periodo mentre su avvenire il presidente della cei cardinal bassetti di fronte all'immane perdita di vite umane si chiede quale sarà il giudizio di dio su noi che assistiamo inermi a tali disgrazie e sullo stesso quotidiano un'inchiesta di nello scavo racconta di come la guardia costiera libica invece di distruggere e affondare i barchini dei trafficanti di uomini dopo aver messo al sicuro i naufraghi li riporti a terra violando gli accordi per cui l'italia finanzia il governo di tripoli il messaggio del presidente della repubblica per il 76esimo anniversario della liberazione d'italia che ricorre domani 25 aprile desidero ricordare scrive sergio mattarella il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato e combattuto nelle file della resistenza quanti furono deportati internati o sterminati nei campi di concentramento rinascita unità e riconciliazione nella nuova costituzione spiega il capo dello stato furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione allora e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi legata alla pandemia ora più che mai conclude mattarella occorre rimanere uniti si è spenta milva signora della canzone italiana interprete anche dei canti della resistenza francesco durante aveva iniziato da giovanissima a cantare nelle balere con il nome d'arte sabrina subito notata per la sua grinta e la sua voce straordinaria poi trionfò a un concorso di voci nuove della rai nel 1959 ed allora il successo di maria ilva bircati in arte milva è stato sempre in ascesa come cantante ed attrice ottenendo straordinari apprezzamenti sui palcoscenici d'italia e all'estero i brani della pantera di goro così soprannominata dal suo luogo di nascita in provincia di ferrara sono noti anche in europa estremo oriente sud america in oltre 50 anni di carriera milva la rossa per il colore dei suoi capelli e per la sua collocazione politica nell'ambito della sinistra si è cimentata in generi musicali molto differenti vendendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo la sua statura artistica il suo singolare talento interpretativo l'hanno condotta poi all'esperienza teatrale specializzata nella rappresentazione del repertorio brechtiano negli anni 80 l'incontro combattiato poi nel 2000 alla collaborazione con la poetessa alda merini con un intero album ispirato alle sue liriche nel maggio dello scorso anno la sua ultima apparizione sulle scene musicali con un cameo in chiusura del videoclip della canzone domani e primavera di dario gai incisa con altri artisti per l'emergenza covid malata da tempo di alzheimer la pantera di goro si è spenta nella sua casa di milano abbandonando la scena del mondo all'età di 81 anni adesso vi lascio alle previsioni del tempo ma oggi nel salutarci vediamo insieme le toccanti immagini della capitale immersa nel coprifuoco serale strade completamente deserte il silenzio che avvolge le vite ma nonostante tutto adesso lo vedrete l'intramontabile bellezza della città eterna simbolo del nostro paese ferito ma che speriamo tutti possa tornare presto a splendere grazie per l'attenzione arrivederci grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione